Salve Ciro! Eh? Eh? È lunedì! Mi devo raccolare quello che mi è cagato. No, quello che mi è cagato. Quello che mi è cagato. No, quello che mi è cagato. Prima di solo mi stanno dentro un ristorante. Ah si chiamano gaga gaga. Ah si chiamano gaga gaga. Come stiamo quello che posso dire gaga gaga? Allora, io un tar di miseria o mi fermo. Che mi è? Che mi è? Che mi è? Che mi è cagato. Che si è cagato. Che mi è cagato. Ah si chiamano gaga gaga gaga. Che mi è tutto, non ma gu Molina ig samee. Perché di sì anche un ristorante. Che mi è tutto. Che ho vosto. Il mio ristorante. Che... non mi porto a casa, mi faccio male, c'è la sedia la mia moglie mi ha portato la bocchia di vino che cosa ci ho trovato? c'è una bocchia di vino la signora è uno stesso ristorante vino indorinato cacacà il venire che mi ha detto? hai detto ma questo è vino moscato allora io gli ho detto cacacà venire lei adesso mi deve portare un bel pipì voi non capite malamente eh un bel pipì bravo eh allora se io mi fermo io un raggio mi fanno completiamo la frase allora io gli ho detto cacacà ero un agente di suo meriere però cacacà bene lei mi deve portare un bel pipì un bel pipì che bello atto grande che avete fatto un bel pipì atto grande di vermicelli o cacacà o cacacà o cacacà o cacacà a me dire è andato sento ha figliato il pipì il pipì il piatto il vermicello me l'ha portato o eh e non virate sopra i vermicelli che cosa ci ho trovato? no c'è una mosca fritta in coppia per vermicelli c'è la potete la città 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 mi ha detto ha detto zitto sono fennuto le mosche se no le vogliono pure gli altri che le sono fennute si la signora vuole andare a riservare gli piacciono i spaghetti con le mosche e allora io mi sono un po' così eh ho detto dai cacacà uuuuuh lei ha lasciato i miei poloni in Italia un bel bicchiere di waff e un bicchiere di cenato una cenata il commercio ha lasciato i miei poloni 2,50 m ora quando sei grande lei mi deve portare un bel bicchiere di waff e un bicchiere di cenato Il cameriere mi fa, ma scusate che ne dovete fare del pop e del cinale? Mi faccio il carciofo l'ondurato e fritto, che lo fa via? E poi mi viene portato un bel bicchiere di whisky, ma un whisky di quello di prima della guerra. Il cameriere si ferma, mi guarda dentro le palle. E io, ma voi capite sempre una cosa l'altra? Mi guarda dentro le palle degli occhi e poi mi fa. Scusate, ma voi di che guerra state parlando? La guerra è fin l'unità, non mi vogliamo fare. E io gli ho risposto, della guerra che faremo io e lei quando le dirò che non sono i soldi per pagare. E io gli ho pagato! E bene, grazie!